Una donna di 81 anni è morta questa notte nell'incendio della sua abitazione a Isola del Gran Sasso. Ricoverati in ospedale la figlia e il marito a causa del fumo inalato, non sono però in pericolo di vita. L'81enne è morta per le esalazioni a seguito dell'incendio che è divampato verso le 2 di notte nel suo appartamento, non distante dal santuario di San Gabriele. A lanciare l'allarme sarebbero stati alcuni vicini di casa, svegliati dall'odore del fumo e dalle fiamme. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, sono ancora da accertare le cause dell'incendio. Il PM di turno ha disposto il trasporto della salma nell'opitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo.